E come dicevamo in apertura di puntata, stamattina sono contento di ospitare nei nostri studi l'Alfiere della Repubblica, Michele Vigilante, buongiorno, bentrovato, e la professoressa Carla Bonfitto. Grazie per essere con noi, buongiorno, benvenuti. Grazie a voi, buongiorno. Allora, stamattina nei pochi minuti purtroppo che abbiamo a disposizione vogliamo un po' ripercorrere le tappe che hanno visto Michele ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica questa onorificenza così importante che gratifica anche anni di impegno, potremmo dire così. Vediamo insieme un brevissimo stralcio della premiazione avvenuta nel Palazzo del Quirinale. Michele Vigilante per l'impegno nella promozione del valore sociale della lettura. Da volontario si spende non soltanto tra i coetanei ma anche tra le persone aziane, offrendo loro momenti di serenità, di condivisione, di riflessione con la lettura. Michele, che emozione allora ricevere dalle mani del Presidente questa onorificenza così bella, così importante. Beh sì, è stata una soddisfazione immensa che ha riempito di gioia a me, la mia famiglia e tutta la comunità san marchese e anche i miei insegnanti. Certo è stato un traguardo molto bello e è stato un misto di emozioni quando ho incontrato Mattarella. Da volontario si spende non soltanto tra i coetanei ma anche tra le persone anziane. Ne abbiamo ascoltato offrendo momenti di serenità, di condivisione e di riflessione. La comunità di San Marco e Lamis, una cittadina a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, è in festa. Professoressa Bonfitto perché un figlio di questa terra, potremmo dire, ce la fa, tra virgolette. Un primo passo ovviamente, poi il resto vedremo. Insomma, Michele, ce l'auguriamo tutti, vero professoressa? Sì, tra l'altro il 27 maggio nell'Istituto Giannone, nell'auditorium dell'Istituto Giannone, festeggeremo Michele con la comunità scolastica e tutta la cittadinanza. Quindi per noi è motivo di orgoglio, anche perché San Marco e Lamis, tra l'altro, è città che legge, da tre bienni consecutivi e quindi questo diventa ancora di più un fiore all'occhiello per la nostra cittadinanza. Come nasce questa, chiamiamola, candidatura che poi ovviamente ha ricevuto, diciamo, il suo suggello al Palazzo del Quirinale, la candidatura di Michele? Poi andiamo anche da lui ad ascoltare la sua voce. Intanto nasce da una profonda passione per la lettura che, per quanto mi riguarda, mi accompagna da tantissimi anni. Nel mio lavoro di insegnante cerco sempre di condividere con i miei alunni, ma anche con i colleghi, questa grande passione. Poi mi piace molto osservare, osservare i ragazzi e vederli crescere. E in Michele ho visto questa crescita di anno dopo anno e mi sono sempre chiesta io che cosa posso fare per lui, che cosa posso fare in più per i nostri ragazzi. E allora l'idea è stata quella, insomma, di segnalarlo per ricevere questo, per concorrere come alfiere. Michele, che cosa vuol dire per te la lettura, leggere? Sì, per me leggere significa crescere moralmente, mentalmente e socialmente. Per cui la lettura è il più vasto repertorio di emozioni e sentimenti e noi possiamo apprendere ed imparare dalla letteratura. Per cui... Poi è significativo il fatto che tu comunque sia tra i tuoi coetanei, ma anche tra le persone anziane. Ecco, questo passaggio mi piace molto delle persone anziane. Prima abbiamo citato assieme a Maria Pia Papa Francesco e poi lascio anche a te la parola Maria Pia che ha questo amore smisurato per i bambini e per le persone anziane. Due età contrapposte ma che hanno insieme tanti caratteri comuni. Perché proprio le persone anziane? Beh, perché per me è un motivo di crescita dalle riflessioni che emergono e dai confronti generazionali che abbiamo. Di fatti incontro periodicamente persone anziane. Quindi ci confrontiamo sulla lettura, ecco. Maria Pia. Direi che la domanda è d'obbligo, carissimo. Oltre a un grazie, un saluto affettuoso, innanzitutto a Carla che conosco bene. Te ho avuto il piacere oggi di incontrarti. Allora, chi è che ami di più tra i grandi capolavori? Oppure un autore sconosciuto che ci vuoi citare? Io devo, come dire, far crescere la pila di libri da leggere e quindi voglio il tuo consiglio. Beh, tra i classici amo particolarmente Elsa Morante, Italo Calvino e anche Antonio Tabucchi che ho avuto modo di leggere anche nel progetto del Salone Internazionale del Libro. E poi diversi autori di narrativa contemporanea che ho avuto modo di conoscere e leggere grazie ai progetti scolastici e non, quali leggo quindi sono, oppure la rassegna letteraria a pagine d'autore. Professoressa Bonfitto, io penso che anche l'esempio di Michele, poi Maria Pia, ritorniamo da te, sia un motivo di sprone per i nostri ragazzi a staccarsi da questi benedetti telefoni. Se si legge sicuramente si cresce, anche perché in quelle pagine ci mettiamo un poco di noi, della nostra vita. In una società che ormai ci porta via tanto tempo, soffermarsi un attimo, aprire un bel libro, significa anche trasferire quello che leggiamo nella realtà. e poi in fondo che cosa ci rimane se non la cultura e la lettura per diventare uomini migliori come Michele, che ne è un esempio. Michele, hai già scritto qualche verso, hai già buttato giù un plon per una storia, ti piacerebbe andare dietro a qualche grande personaggio per dirgli, ecco, vi propongo questo. Sì, non ancora ho scritto dei versi, però partecipo ogni anno al concorso di scrittura Short Story nell'ambito del progetto Leggo Quindi Sono e recensisco diversi libri sul blog Pagine d'Autore della professoressa Carla Bonfitto. Che è una nostra collaboratrice, lo vogliamo ricordare, ogni giovedì con la sua rubrica dei consigli di lettura. Abbiamo visto la foto di Michele con il presidente Mattarella, cosa ti ha detto il presidente? Beh, il presidente si è congratulato e mi ha detto continuo così. Molto sobrio. Senti, ma hai dovuto subire dei comportamenti non appropriati dai compagni per queste tue passioni? Ti è mai capitato in passato di essere indirettamente bullizzato proprio per la tua diversità rispetto a tanti? No, no, assolutamente. Anzi, devo dire che sono riuscito a trainare certi compagni anche che hanno intrapreso questo percorso di lettura. Beh, questa è una grande consolazione e complimenti ovviamente a tutta la comunità san marchese e agli insegnanti in particolare. E proprio con la professoressa Bonfitto vogliamo chiudere questo spazio per chiederle ecco quale motivo, o meglio quale benzina è stata inserita nel serbatoio? Perché comunque è un riconoscimento importante quello di Michele che tante volte dà anche soddisfazioni per un lavoro che forse al giorno d'oggi non è visto come i vecchi tempi. E dunque questo riconoscimento in qualche maniera anche gratifica del lavoro svolto e mette benzina in più nel serbatoio per il futuro, per le prossime generazioni. Io dico sempre che le cose non arrivano dall'oggi al domani. Si costruisce, si costruisce tassello dopo tassello. Se ci mettiamo la semplicità, l'impegno e se ci crediamo nelle cose che facciamo. Michele, come del resto, tanti altri compagni, perché io in lui vedo anche tanti altri miei alunni che sono cresciuti durante gli anni, non hanno fatto altro che seguire la loro inclinazione. Noi insegnanti che cosa possiamo fare? Possiamo accompagnarli in questo bellissimo viaggio che poi è il viaggio della vita. E quindi è un riconoscimento che sicuramente va a Michele, ma ripeto, in lui va tutta la cittadinanza, alla comunità scolastica, e quindi al consiglio di classe, al dirigente, al vicario, al dirigente scolastico, il professor Costanzo Cascavilla. Cioè siamo davvero una bella squadra che dopo tanti anni e sacrifici, perché ci sono stati anche momenti difficili, però siamo andati avanti insieme e adesso viaggiamo insieme. C'è stata la tempesta, come è stata definita, del Covid, insomma, che ha un po' rivoluzionato anche il modo di fare didattica e dunque questo riconoscimento è anche un ulteriore motivo di soddisfazione. Michele, per chiudere, cosa vedi nel tuo futuro? Nel mio futuro voglio intraprendere la facoltà di ingegneria all'università, perché oltre alla passione per la letteratura, quindi per la lettura, ho anche quella per la matematica e la fisica. Ok, benissimo. Un ragazzo con le idee chiare, professoressa. Decisamente. È davvero consolante da questo punto di vista. Maria Pia, non so se tu vuoi... Può commentare che non solo è l'idea chiare, anche dei neuroni smaglianti. Complimenti ai genitori. E poi volevo dirti, visto che abbiamo lo scatto giusto proprio qui, dell'attestato, mi raccomando che quello diventi uno dei cimeli di famiglia, quando sarai tu anziano, lo farai vedere ai nipoti, ai pronipoti, deve essere così, proprio per la motivazione che c'è. Mi raccomando. Grazie. Grazie. Grazie Michele, grazie professoressa. Grazie a voi. In bocca al lupo per il tuo futuro e per il tuo lavoro, professoressa. Noi ti rivedremo ovviamente qui su Padre Pio TV, nella rubrica, come abbiamo detto, angolo di pagine d'autore. Adesso andiamo in pubblicità e poi ancora insieme. Grazie a voi.